Non voglio più vedere in carcere uomini e donne solo per le loro idee, mentre i ladri e i delinquenti girano a piede libero o vengono scarcerati con l'indulto. Questa storia dell'indulto è una cosa vergognosa. I delinquenti devono stare in galera, non essere liberati, punto. La Lega sono io, perché sono stufo di vedere sotto casa tutti questi spacciatori e delinquenti che c'è da aver paura ad uscire. Basta, è ora di finirla con questa gentaglia. Grazie a tutti.